Se si tornasse oggi alle urne per le politiche, il Partito Democratico sarebbe con il 32% primo partito nel Paese, con un vantaggio di 6 punti sul Movimento 5 Stelle che, in chiara ripresa, si attesta al 26%. E la fotografia che emerge dai dati del barometro politico di luglio dell'Istituto Demopolis. La Lega di Salvini, ormai nettamente terzo partito, otterrebbe il 16%, oltre 4 punti in più di Forza Italia posizionata all'11,5%. Più staccate le altre forze politiche, SEL a 4,3%, Fratelli d'Italia della Meloni al 4%, Nuovo Centrodestra Udc di Alfano al 3,8%, sotto il 2% invece le altre liste. Il trend politico Demopolis, ha spiegato il direttore dell'Istituto Pietro Vento, fornisce il quadro della evoluzione del consenso ai primi due partiti, entrambi attestati intorno al 25,5% alle politiche del 2013. Il PD, con Matteo Renzi, raggiunge il 30%, nel febbraio 2014 spiore il 41% alle europee. Dopo avere toccato il 31% a fine giugno, con una lieve ripresa si posiziona oggi al 32%. Il PD paga, in termini elettorali, la tendenza all'astenzione di segmenti del suo elettorato, ma anche alcune scelte recenti, a partire dalla riforma della scuola. Il Movimento 5 Stelle, in recupero, torna con il 26% sui valori percentuali delle politiche di due anni addietro. Il Movimento di Grillo, ha concluso Pietro Vento, appare in crescita al sud ed in Sicilia, in misura nettamente superiore alla media nazionale. E la paralisi del Governo della Regione, guidato da Rosario Crucetta, sempre più avvertita dall'opinione pubblica, sta penalizzando, in termini elettorali, il partito di Renzi nell'isola. I dati del barometro politico Demopolis confermano anche il mutamento degli equilibri in seno all'area di centrodestra. I mesi del Governo Renzi hanno visto una progressiva riduzione del peso elettorale di Forza Italia, passata dal 23% del febbraio 2014 all'11,5% odierno. Inversamente proporzionale, appare invece la crescita della Lega di Salvini, dal 3,8% di 16 mesi fa al 13% di dicembre, fino al 16% di oggi. Salvini non sfonda al sud ed in Sicilia, dove Forza Italia, il nuovo centrodestra e Udc, secondo l'istituto diretto da Pietrovento, mantengono quote di elettorato più ampie di quelle registrate oggi in altre aree del Paese. In base all'attuale intenzione di voto, la soglia del 40%, prevista dall'Italicum, appare difficilmente raggiungibile al primo turno e, con la nuova legge elettorale, si andrebbe oggi al ballottaggio tra PD e Movimento 5 Stelle. Per il direttore dell'istituto Demopolis, si tratta di un contesto elettorale aperto e in costante evoluzione. Il dato più rilevante degli ultimi mesi, ha evidenziato Vento, è rappresentato dalla crescita dell'area di astenzione, ormai oltre qualunque quota fisiologica del passato. L'affluenza alle urne crollerebbe dal 75% delle politiche 2013 al 59% di oggi. Se ci si ricassa alle urne, quasi 20 milioni di italiani non voterebbero. È un bacino elettorale senza precedenti, segno di ulteriore incertezza nello scenario politico del Paese.